C'è sempre le quattro cose che mi piacciono, insomma, io compongo nella stessa maniera come farebbe uno vecchio a scuola con la chitarra, solo che io lo faccio col computer, butto giù quattro accordi e poi ci scrivo sopra il testo la melodia, o altrimenti se qualcuno mi dà una base che mi piace, tra quelli che mi portano le basi a sentire, scrivo sopra lì. Poi quando ho sviluppato un po' la mia canzone col mio computer la do in mano degli arrangiatori che mi piacciono e la faccio migliorare, finché non mi sembra... Ma di questo da che cosa parte? C'è cosa che ti spinge? Grazie uno di noi! Uno di noi, che ha seguito uno di noi, uno di noi, uno di noi, che ha seguito uno di noi... Uno di noi, che ha seguito uno di noi, uno di noi, uno di noi, uno di noi, uno di noi... anche in temi, che ha seguito uno di noi, gli uno di noi, ultim No, no, no. Grazie a tutti.